Un forte urto, la caduta del ciclomotore e un'auto che fugge via senza fermarsi. E la terribile scena a cui hanno assistito ieri sera alcuni testimoni di un incidente stradale sulla strada provinciale Ragusa Marina di Ragusa. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia provinciale. Lo scontro è avvenuto tra un ciclomotore a Priglia Scarabè e un'autovettura che dopo l'incidente non si è fermata. Probabilmente si tratta di una BMW, ma la polizia provinciale sta cercando di risalire alla sua targa grazie ad alcune testimonianze. I mezzi coinvolti percorrevano la stessa direzione di marcia quando il conducente dell'auto ha tamponato la scuterista che è stata soccorso da un'autoambulanza del 118 e trasportata in ospedale. La polizia provinciale è ora alla ricerca dell'autovettura che ha tamponato il ciclomotore. Per risalire così al suo guidatore, nuovi sviluppi potrebbero arrivare proprio in queste ore.